Siamo già provati dalle sfide precedenti ma questo non ci fermerà, non ci ferma nessuno In questo video cercheremo di romperci la schiena nel modo peggiore possibile Quindi abbiamo manubri che si trovano forse in poche palestre No, solo qua 60 kg, 70 kg e 80 kg dove partiremo facendo qualche rematore Quindi manubrio singolo, partiamo con i 60 e poi vediamo chi sopravvive fino ad arrivare agli 80 E questo video grazie a? Questo video ragazzi ovviamente grazie al nostro sponsor, alla partnership di Prozis Che ricordiamo ragazzi usate il codice sconto con mano 10 per sostenerci nei nostri video Un altro buon metodo sarebbe anche iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento Che ci incentiva a fare queste follie Soprattutto dopo che ci lasciamo la schiena Allora, questi qui sono i pesi che in realtà sono di gomma più ma sono finti Abbiamo messo un numerino sopra per sembrare grossi ma in realtà sono 8 kg Sono quelli dei cartoni? Sì, sì Però potevamo farlo, vero? Era una cosa molto pinta di genere Sì Solo che dopo quando lo butti su Tipo così dopo? Quando lo butti su dopo non si sentiva questo No Una cosa bella che succede alla Beverly che come potete vedere C'è chi li usa eh Non sono pesi nuovi immacolati Non è altro solo che li usa la Beverly Ma non solo uno Allora, facendo il petto solo uno Le regole del gioco sono ragazzi che proveremo a fare il rematore a un braccio Quindi rematore manubrio Con 60 kg prima I 70 e gli 80 Vediamo, partiamo con tre colpi per braccio Ah, pensavo mi facessi seguire qua Mi scadando Non è neanche cagato Easy In soltezza Facile Sì, questi facili Scusa eh Posso? Prego Adesso lo faccio il mio Ma che cagato Gira per noi Boom 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 Una Tre Cuoco le vene che escono fuori Guardale mamma Tre Tutorial su come farci male 60 dai abbastanza easy tutti e tre adesso andiamo oltre ci siamo 70 chili tre colpi andiamo 1 2 1 2 e 3 e vamos mano sinistra non tiene ma tu dirmi questa schiena guardami guarda come uno spacco 1 2 e 3 1 2 3 la cosa più difficile posso tiro? no no ma guarda per terra è pieno qui si è visto bene nell'impugnatura da questo lato proprio che cosa è di difficile di questi manubri se avete visto come gli ha sfuggito la presa e da che l'aveva presa nel mezzo gli è finita proprio nell'angolo quindi è più difficile quasi mantenere la presa e mantenere il manubrio in equilibrio che fare proprio il peso di per sé massimo allungamento massima contrazione bene ci stiamo scoprendo più forti di quello che pensavamo è quello che ti serve per l'impugnatura hai pensato che erano i ganci? no 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 ma ragazzi è veramente imbarazzante dai tiralo su 4 dai che ne hai 6 dai 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 su e te lo mangi 1 2 3 4 5 e 6 golden club nuova occasione targata prodi tutti quanti i prodotti con la stellina avranno il 90% di sconto dov'è la fregatura ragazzi? non c'è la fregatura tutte le info sono sul sito progis.it e utilizzando il nostro collice sconto oltre ad avere questo 90% di sconto avete sempre il nostro 10% con comando 10 e i prodotti in regalo ogni mese 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 5 8 1 8 9 8 9 Allora il buon Matteo ne ha fatte 6 Nathan ne ha fatte 3-5 Però senza i grips Adesso vediamo se riusciamo a farne Siccome il peso non basta Perché in questa palestra più di 80 kg Non ci sono Non so perché Scusa Una bella catena di 16 kg E vai Fare 2-3 Matteo Usiamo solo un braccio Grazie Mi metto anch'io e la uso Il mio dittino è rimasto sotto Porca paletta Sì tra la catena e Manubrio Che bello Adesso perché non posso avere spinte con questi? Sì Con un manubrio con due mani No C'è un'altra catena Cioè non ti accontenti mai No È l'unica giacinità dove tiro Mai Non ti accontenti 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 mai in scioltezza proprio come sorpresi le fate anche bene tanta roba il ragazzone qua io posso anche non farlo se volete ci vuole col piede pesa molto voi siete matti vi faccio qualche ripetizione con i 40 così ma non ho prima di tutto non ho voglia di farmi male abbiamo già fatto lo squat il rematore dobbiamo fare l'access press faccio giusto lo spinto con i 40 perché veramente non voglio farmi male lascio lo scettro a matteo che tanto al petto mi avrebbe battuto tranquillamente comunque senza un filo di gas proprio e me ha vagabust al cul me hai provo gli stas e me ha vagabust al cul perché me hai provo gli stas e io sono vicino a lui ma ragazzi non ce la faccio poi dire la verità che hai capito se lo bus dal culo a me non mi interessa io ci provo comunque detta in italiano iniziamo con 40 kg ragazzi e facciamo 3 4 colpi in panca inclinata spinta in soltezza ed ecco voi ragazzi il nostro accoman si prepara per la sua presazione 2 3 posso andare avanti al rifugio non mi sberdare subito poi inizio così cazzo che il potere di war machine shame si col cazzo che li faccio scorrere no 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 lascia lascia col cazzo che li faccio scorrere 60 due e tre buono sì ciao buone siamo a 50 50 tre colpi ma si vede già che li fa ma come l'ha tirato sotto ma lui lo fa con un filo di gas lo sentiamo già però per sicurezza non si sa ma non ti staccare che dobbiamo vedere e gli hai aspetta ma perchè non li fai anche? dopo da lì me li devi dare tu eh genio dai su ok su ok non è mio ok io con questi non ce la faccio 1,2,3,1 lascia pure ah lascia lascia allora lascia pure questa è stata una scoperta mi sono sorpreso oh scusa vai dietro la prima ti do la mano un secondo lascia ho già fatto anche troppo per quello che abbiamo detto che facevo io l'ho fatta mezzo con i 50 mezzo l'ho fatto io mezzo me l'ha fatto lui ce l'hai? ok andiamo su insieme 1,2,3 ok aspetta e andiamo a girarlo ok io te lo sto tenendo eh lascio lascio piano eh vai 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 basta io sono rimasto così è questo si sente ma comunque 70 kg è un cristiano eh cioè parliamo eh questi si sentono non è impossibile ci devi prendere l'abitudine a livello di impostazione di equilibrio è molto pesante però non è impossibile qua gli ha lasciato un meno 30 lo sapevamo già non è che siamo rimasti meravigliati quindi devo dire che ho preso la puzza nell'ultimo esercizio sono stati bravi davvero quindi non possiamo dire niente siamo andati bene in tutte le sfide adesso continueranno a vedere nei prossimi giorni gli altri video delle sfide che faremo dopo che tanto siamo vestiti sempre uguali capirete che la giornata non finisce qui perché siamo qui da 5 ore a fare video e andremo avanti ancora quindi saremo sempre più cotti e andremo a mangiare 4 gallette che ci servono si vola